Un pezzo veramente scatenato oggi, che ha riportato al successo Amy Stewart Knock on wood, è un pezzo portafortuna, infatti battilegno, battiferro, portafortuna e farà ballare tutti, già stanno ballando dietro le quinte Ecco, mentre ballate però, come dire insomma? Dicevo, a casa se ballano, salto al telefono, possono fare 159 e fare anche un'offerta piccolissima, sai perché basta piccolissima? Perché siamo in tanti e quindi... L'unione fa la forza, knock on wood! Ok Grazie 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 No Bravissima E intanto guardate Su questa splendida canzone siamo arrivati a 3 miliardi 714 milioni